La città di Catania è scossa per la morte di un bimbo di due anni, deceduto dopo essere stato dimenticato in auto dal padre. E' successo nel parcheggio della cittadella universitaria. Un dramma che ancora una volta si ripete e che questa volta ha visto protagonista un dipendente amministrativo della Facoltà di Ingegneria di Catania. L'uomo di 43 anni, secondo una prima ricostruzione al Valle degli Inquirenti, ieri mattina si sarebbe recato al lavoro dimenticando il figlio nel seggiolino posteriore. Il piccolo sarebbe morto di caldo nel parcheggio. Il papà avrebbe dovuto lasciarlo all'asilo, ma una grave distrazione ha totalmente tolto dalla testa al genitore di lasciare il bambino al nido. Una dimenticanza che si è trasformata in tragedia. Il piccolo sarebbe stato ritrovato già morto asfissiato intorno alle 14. Solo all'ora di pranzo la nonna, che doveva prendere all'asilo il nipotino, ha lanciato l'allarme. Le maestre hanno riferito che nessuno aveva accompagnato il bimbo. Solo a quel punto il papà del piccolo rintracciato si sarebbe reso conto di quanto accaduto e sarebbe andato di corsa nel parcheggio. Non c'era più nulla da fare. Il bambino, che sarebbe rimasto più di 5 ore nell'abitacolo con i finestrini chiusi, con una temperatura esterna di oltre 30 gradi, sarebbe morto per asfissia. Sulla tragedia sono in corso indagini da parte della polizia. L'uomo è adesso indagato, come atto dovuto dalla procura di Catania con l'accusa di omicidio colposo. Una tragedia che ricalca quella avvenuta sempre a Catania nel luglio del 1998, quando un ingegnere di 37 anni dimenticò il figlio sul seggiolino per bambini nel sedile posteriore dell'auto.